The Walking Dead 7 Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi se non è ancora fatto ma non perdevi i prossimi contenuti di The Walking Dead Mi raccomando ragazzi invito a lasciare un mi piace che è davvero molto importante e cerchiamo di raggiungere tantissimi mi piace per questo video Inoltre vi ricordo di passare nella pagina Facebook e nel profilo Instagram che tutti i link li trovate come al solito nella descrizione E adesso iniziamo subito con il video Ebbene si ragazzi la reazione è stata al 100% positiva, non gli posso dire nulla ragazzi E' stata una delle promo più belle ovviamente escludendo il trailer della settima stagione Che appunto sono uscite su The Walking Dead 7 E' stato qualcosa di favoloso, abbiamo visto tantissime cose Abbiamo visto nel primo frame del video vedere Negan Prima sicuramente sarà un frame del primo episodio della settima stagione E vedere Negan girato di spalle con Lucille appunto alla sua spalla diciamo Ed è una cosa fantastica perché mi sono accorto che appunto mi sa che è il primo frame di quello che è appunto la prima immagine Di quella che è il primo episodio della settima stagione Quindi l'ansia a vederla è stata una cosa magnifica Anche perché appunto in questa promo sono state mostrate anche cose che non c'erano in precedenza Quindi cose nuove E successivamente ragazzi una impressione che ho avuto riguarda Cioè appunto guardando questo trailer, questa promo diciamo Si è visto guardare una nuova location Quindi c'è una nuova location in quanto è stato preso Negan Con dietro un orologio e lui che fischietta tutto tranquillo con Lucille in mano Ed è stato ragazzi un qualcosa di fantastico Cioè nel senso abbiamo visto che ci sarà una nuova location E quanto pare, correggetemi se sbaglio, non so se voi avete dato un'impressione diversa Credo si trovi nel Centuary, quindi il luogo in cui ci sono i salvatori Quindi non lo so ragazzi se questa location ovviamente si tratta del Centuary Perché non l'ho mai vista Quindi vado diciamo così ad indovinare Comunque sia è stata una cosa veramente impressionante vedere Negan che fischietta tranquillo Non so effettivamente se questo sia dopo o prima della strage Cioè dopo che ha ucciso appunto la vittima diciamo del gruppo di Rick Non lo so ragazzi Fatemi sapere voi nei commenti se secondo voi questa è prima o dopo appunto la strage di Negan In ogni caso poi successivamente in un frame vediamo Morgan con una pistola Che spara praticamente a un qualcosa Non si sa effettivamente cosa Ma poi si vede un frame dopo guardare uno del Regno Molto probabilmente, non so se sbaglio Che viene appunto aggredito da due zombie Quindi ci fa capire insomma che Morgan stia aiutando effettivamente il gruppo Questa persona qui del Regno Perché come sapete Morgan e Carol si trovano al Regno Mentre il gruppo di Rick ancora no Ovviamente penso è la prima parte della stagione Quindi circa i primi quattro episodi Secondo me verranno distinte diciamo le due storie Quindi vedere il gruppo di Rick e poi vedere Morgan e Carol che si trovano all'interno del Regno E' una cosa veramente figa perché comunque vedremo come si comportano i personaggi Prima di ritrovarsi con Morgan e Carol In ogni caso ragazzi le impressioni come ripeto per questa promo sono state fantastiche Una promo veramente epica Non ho niente da aggiungere È stata una cosa fantastica vedere l'ultima frase Con poi un'immagine che molto probabilmente ragazzi vi porterò un'analisi di questa immagine Perché ho davvero ragazzi tantissime cose Perché questa immagine alla fine diciamo del trailer della promo Si vede Negan che dice I'm everywhere E qui ragazzi è proprio Mi ha fatto venire l'ansia proprio a livello estremo Vedere Negan che dice sono dappertutto Cioè nel senso adoro questo personaggio Cioè nel senso lo adoro Anche se sarà il villain che molto probabilmente ucciderà uno dei miei personaggi preferiti In ogni caso ragazzi è un villain veramente molto molto carismatico E penso veramente che darà filo di torcere al gruppo di Rick al 100% In ogni caso questa immagine ragazzi nasconde un frame molto molto diciamo interessante Una parte molto interessante Guardare la parte destra dell'immagine assomigliare ragazzi ai capelli di Daryl Ovviamente non so se Cioè ovviamente mi sbaglierò perché ovviamente non mettono Cioè non è che i produttori sono stupidi a mettere un diciamo un indizio così Diciamo visibile Per ogni caso ragazzi vi porterò un video a parte Dove analizzeremo due frame di alcuni trailer Mi pare anche l'altro frame non si tratta di questo promo che state vedendo appunto adesso Però si tratta appunto di un altro frame di un'altra promo Quindi ovviamente lo confronteremo tutti insieme E vedremo quali secondo me appunto sia Daryl Perché comunque se si vede sempre questo effetto qui con Negan al centro E Daryl Presunto Daryl poi perché ovviamente ragazzi non è sicuro Che sia la sua destra oppure la sua sinistra Insomma non mi ricordo Comunque sia appare Daryl Perlomeno sembra Quindi fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate di questa immagine Ma molto probabilmente ragazzi uscirà il video proprio apposito Perché voglio analizzarlo correttamente Quindi fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate di questa promo E se vi ha dato le stesse impressioni e la stessa reazione che ha dato a me Perché è stata una promo fantastica E non vedo ora ragazzi che arriva in ottobre Perché ormai non ce la faccio veramente più ragazzi ve lo giuro In ogni caso spero questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi se non è ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead Mi raccomando ragazzi invito a lasciare un mi piace che è davvero molto importante E cerchiamo di arrivare a tantissimi piace per questo appunto video Questa reazione E nulla noi ci sentiamo ad un prossimo video E un saluto da Foxhine The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti